E cosa succede? Venga a vedere, si sta trasformando Goku! Venga a vedere, si sta trasformando Goku! Venga a vedere, si sta trasformando Goku! Che cosa succede? Venga a vedere, si sta trasformando Goku! Venga a vedere, si sta trasformando Goku! Venga a vedere! Venga a vedere! Venga a vedere! Venga a vedere! Venga a vedere!